sapete perché dobbiamo presentare il ragazzo che sta portando le pizze offerte dal ristorante Grazie, grazie, grazie Grazie, grazie Grazie, grazie Campa con te, sempre con te, per non morire Che c'è? Dici, mamma, parole al mare Sì, ho bene, può campare, un'ora e spero Sì, spagli, è pure tu, per chi sta fuori Sì, spagli, è pure tu, per non morire Ok, grazie molto, grazie Grazie mille Grazie, grazie And now, ladies and gentlemen